Lanciato a livello nazionale all'inizio di autunno, il nuovo programma Mercedes-Benz Certified, progetto di usato premium garantito della casa di Stoccarda, è stato presentato nel centro Italia con un imponente evento organizzato dalla concessionaria Rossi Mercedes-Benz in collaborazione con Mercedes-Benz Italia al Val di Chiana Outlet Village di Fogliano della Chiana. Per oltre una settimana i clienti della grande struttura commerciale toscana hanno potuto visionare e provare su strada e quindi direttamente acquistare là decine e decine di auto Mercedes, Mercedes-Benz M&G e Smart esposte in quello che si può definire un vero e proprio autosalone a cielo aperto della Stella Treppunte. Tante proposte dalla classe A alla classe S, quindi tutte le vetture per passare poi ai veicoli commerciali, tutti sotto il nuovo brand Mercedes-Benz Certified. Tutti i nostri consulenti erano qui e sono qui a disposizione per i nostri clienti, quindi è un'occasione veramente unica per fare shopping e anche l'auto si veste da shopping in questi giorni. Mercedes-Benz Certified è un programma dell'usato a 360 gradi che ha l'obiettivo di promettere al cliente innanzitutto fiducia, trasparenza e opportunità di comprare delle vetture selezionate, vetture che hanno un'età tra 0-6 anni, massimo 150.000 km per le Mercedes, 0-6 anni, massimo 100.000 km per le Smart. Tra le promesse del programma Certified le auto vengono garantite fino a 48 mesi, sottoposta a 150 controlli con certificazione dell'effettivo chilometraggio e trasparenza della storia manutentiva pregressa. Certified si arricchisce quindi di manutenzione programmata, si arricchisce di prodotti finanziari che vanno dal finanziamento al leasing e abbiamo anche l'offerta di noleggio sull'usato, anteprima assoluta che abbiamo lanciato con questo programma. In sostanza tutti elementi che possono far stare tranquilli i nostri clienti e soprattutto dargli la possibilità di entrare in un ecosistema Mercedes. Un'occasione per incontrare i nostri clienti anche fuori dalla concessionaria e devo dire una grandissima risposta di pubblico e di clienti che ci sono venuti a trovare, abbiamo avuto veramente centinaia di persone ogni giorno e siamo riusciti insieme a loro a trovare tante tante soluzioni, un'esperienza che vogliamo ripetere sempre sotto il nuovo brand Mercedes Benz Certified. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.